di questi luoghi. Ci troviamo alla porta del Sile e da qui partirà oggi la mia gravel del commissario. Oggi passando dal centro di Treviso vi porterò la scoperta del girasile e io in sella alla mia gravel andrò come sempre, lo scopo è questo, a scoprire sentieri di strade sterrate. Lascio la restera del Sile per andare verso il centro storico di Treviso.